coni ciò e benvenuti nel mio canale sono sempre giappogamer bene a tutti quanti voi qui su dragon quest heroes 2 oggi siamo di missione secondaria chiamata smuovere i sassi e come vedete sulla sinistra il mio gruppo di personaggi composto da baldo che ha livellato livello 11 gli altri tutti quanti livello 10 bene così abbiamo un po dove dove andare allora via un po amica mia allora via un po ecconi ci va allora missioni attuali smuovere i sassi allora tra poco appuntamento all'oasi di aridu ma quando sono andata a dare un'occhiata al posto era pieno di orribili massi sghignazzanti vuoi fare qualcosa al riguardo ok aridu ok sorbomba richiesti 20 luogo aridu limita un po nessuno bene ok non voglio annullare niente scusate ok occhi oscite vabbè ci vediamo allora abbiamo un po eh aridun vediamo un attimo allora inventario equipaggiamento dati sulle battaglie ok bene così teletrasporto vediamo poi dobbiamo trasportarci ad aridun si ecco qua al confine dunisiano vediamo poi magari ci possono vai teletrasporto là poi magari torniamo indietro ariduni o nosi vediamo un po dobbiamo smuovere i sassi vedere un attimino ok boni tutti allora sono spacciato ormai è finita dove stai noi vedete avremo un'altra missione ah eccoli qua sono questi vai così ok grandissima demona grandissima un po parliamo un po questo qua è arrivato cosa ma vediamo un po 180 punti esperienza buono così bene bene ottimo così benissimo allora andiamo con il mio personaggio va tocca andare eeeh siete nel po qua va facciamo un po di esperienza va inizia a prendere questo va così così venite venite ok bene così un po di soldoni tagli e baldo combatti amico mio su dai venite qua e vediamo di andare di trovare questa oasi dove gaspia sarà quest'oasi oh cazzo oh cazzo roland golem vai così attacchiamolo in massa vai così crepato bene così forse in quella zona lì quella verde o sono questi qua un altro golem sta laggiù vai attacchiamolo vai ragazzi attacchiamolo in massa occhio altro golem vai vai che sta per terra vai dai che sta accusando vai attacchiamolo in massa ok bene così baldo dai su coraggio eh dai una mano pure tu allora vediamo un po che ci sta una zona viola non so se sarà la però dice un oasi aio pure sono questi qui vai prendi questo così allora qua vi state voi e prendete questo qua così su occhio a sto fuoco maledetto occhio ragazzi grandissima desdemona grandissima ok bene così ossicino resistente va bene ok ah ma state là state tacci i vostri buoni tutti forse non c'era manco bisogno del teletrasporto vabbè ma comunque vabbè ok uno è baldanzoso qua vai su prendi questo va così ok bene bravo baldo così ti voglio e ok vediamo un po c'è qualcos'altro di qua madonna guardate anche la polvere come è fatta bene cavolo che giocone pure questo jrpg questo dragon quest 2 allora c'è qualcuno lì che danza guardate andate bene un attimo cerchiamo di fare un po' più di punti esperienza e prendete questo qua così oddio 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 che caspia oddio 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 stavo ballando da solo cazzo c'è un altro golem laggiù in fondo però vediamo un po' tu chi sei? vai inizia a prendere questo va così ok si ricollega di là no vabbè ma passiamo di qua te non c'è problema baldo che fai c'hai paura? vai crepa così dai ognuno il suo ognuno il suo ok bene così vediamo un po' teletrasporto inventario vabbè direi che probabilmente come missione secondaria dovrebbe essere andata comunque facciamo il ritorno in città poi vediamo ciao amico devi prendere questo va così va tre punti esperienza in più vediamo un po' ah ma vi siete voi? va bene e prendi questo non ci provare mamma mia che pezza che gli hai dato bene così ok benissimo ragazzi ottimo così e vediamo un po' di far ritorno ad accordia vediamo un po' se questa missione secondaria è andata dovrebbe essere andata ok così eccoci qua ad accordia buoni tutti vediamo un po' ciao amica si ok riferisci missione completata no all'oasi di aridum ma quando andate a dare un'occhiata e allora cavolo scusa ancora non è finita ma porca la miseriaccia boia e allora riandiamo delle trasporto ah forse l'oasi è qua là a destra cavolo non ci ho fatto caso vabbè abbiamo fatto punti esperienza dai vediamo un po' parapam parapam sì allora quindi l'oasi dovrebbe stare di là intanto qua ci sono tutti tanti personaggi che poi se ci vabbè se stanno lungo la strada se proprio ci tenete vai su ecco facciamo così questi stanno già per terra ma noi li colpiamo uguale ok ah ma sono queste le palle porca la miseria ok spaccata una dai ragazzi ognuno apra la palla vai bene così dobbiamo abbattere nella ventina ok va bene dai stiamo a 4 vediamo un po' 5 che vuoi? caspia ci ritono queste palle bah 6 vai 7 così bene così 8 ok brava e poi ci sono un sacco di bei personaggi vai così piatto ricco mi ci picco e prendi questo qua golem vai così così ok portato a termine la missione bene così vabbè facciamo un po' ripuliamo un po' la zona va dai ok bene così ok bene così allora ok via un po' sta guardando il lato sbagliato quindi non riesce a vedere cosa c'è scritto proseguite verso est per aggiungere l'oasi ok ma prendi questo qui va vediamo un po' la ci dovrebbe essere un teletrasporto e vediamo andarla a prendere o meglio ad attivare ok ci sono pure questi nuvoloni grigi mortacci loro che c'è qua che sbrilluccica ho ottenuto giga cactus bene così prima un po' ok ci siamo iniziati con la pietra del viaggio oasi oh infatti mi pareva se non l'avessi attivata quindi col teletrasporto possiamo teletrasportare in città ok teletrasportiamoci lì direi che anche questa sub quest questa missione secondaria è andata andiamo qua alla signorina si con il ciua con il ciua si allora riferisci missione completata smuovere i sassi completata bene così vuoi caridun ok vuoi comunicare completamente questa missione si abbiamo ammazzato più di 20 sorbomba direi quindi andata più che bene bene così altra sub quest completata bene così grazie dammi ricompensa anello dell'u immunità bene così ok al momento dovrei usare le missioni mi dispiace ma dovrei tornare un'altra volta va bene ok missioni abbiamo finite bene così allora ti possiamo anche salutare qui per quanto riguarda questo episodio di dragon quest heroes 2 io vi ringrazio per anzi scusate se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel like un commento una condivisione con questi amici fa conoscere giappogamer lungo e largo io vi ringrazio per essere arrivati fin qui dal vostro giappogamer è tutto sayonara e ai prossimi episodi qui è piaciuto